Sono le ore 11.35, del 4 luglio 2012. Oggi è una di quelle giornate in cui l'azienda Le Rose Romenico registra il massimo movimento di personale. Notate il signor Pedalino che è altamente stressato, gesticola proprio in maniera scriteriata perché lui proprio non ce la fa più. Sono tra l'altro in tuta quest'oggi, tutti fanno la tuta le rose domeniche, tra l'altro tranne il signor Carmine Canizzaro, che vedete là in fondo, che praticamente sta parlando con mia moglie, come potete vedere, e sta lavorando su un furgone, sono due giorni che sta lavorando. Credo dire che in queste condizioni lo stress è davvero massimo, ci sono dieci veicoli già disponibili e qualcun altro anche fuori. Era molto tempo che volevamo fare un filmino nel momento di massima attività della vita dell'Ause Domenico e quest'oggi abbiamo avuto questa occasione. Come al solito le cose migliori avvengono quando meno ve lo spettino. Siamo entrati per puro caso e abbiamo trovato questa situazione a tanto critica, con il pienone, praticamente, quest'oggi. La piscina è completamente satura, in fondo notiamo il suzzuppo del signor Verose che l'elettrozza è rimessa nuova, dopo lo firmeremo da vicino, è un jeep completamente rinnovato. E queste sono le capacità che questa azienda ha, diciamo, a pieno regime. Questo è il filmato che il signor Domenico Leroy si sognava da molto tempo e finalmente oggi ve lo abbiamo realizzato. Con 38 gradi di temperatura esterna qui si svaniglia alla grandissima. Aperi! grazie! Oh! Grazie a tutti.